special corpus eventi tra sport musica arti visive dedicati al supporto delle disabilità intellettive. Caro Gianfranco, oltre ad essere maestro che cura il corpo sei ormai esperto maestro del settore e anche stimato, ti stimo al doppio perché personalmente, perché occuparsi non solo di corpi, diciamolo pure, nelle paestre di solito c'è il culto del corpo ma poco della mente, sapere che tu ti dedichi anche a questo non solo ma dimenti anche che come i computerini vanno in tilt ogni tanto ti fa onore, quindi che dire special corpus andateci un'iniziativa bellissima che il mio amico Gianfranco Tarantini ogni anno propone con grande fatica, quindi non sarebbe male partecipare perché il lavoro degli altri va sempre rispettato. Ciao da Mimo Mancini, in bocca al lupo, ghezzo.